Eccomi di nuovo qui, dopo la pausa a pranzo per Kino, sono tornato a parlarvi di altri libri. Dopo lo sfogo del video precedente vi parlo di un libro piacevole, di uno scrittore veramente di mestiere, di cui penso di avervi già recensito altri libri, comunque si tratta di Roberto Centazzo, creatore di varie serie di romanzi, tra i quali quelli della squadra Minestrina in Brodo, che sono i tre pensionati con passato di carabiniere e altri che si mettono ad indagare, eccetera, eccetera, e poi c'è questa serie dedicata alla località di Cala Marina, località ovviamente di fantasia, che sorge in Liguria. Questo che io ho letto è il secondo romanzo della serie e si intitola Bevande incluse, è stato pubblicato da TEA, sono 240 pagine, 13,20€ il prezzo in formato cartaceo e 6,99€ in formato elettronico. Veniamo alla storia, siamo nell'estate del 1967, quelle estati che le diversamente teenager come me ricordano con infinita nostalgia, erano estati diverse, erano lunghe, erano belle, erano piene di tante cose che purtroppo si sono perse col tempo, ma comunque siamo appunto in estate, Cala Marina vive la sua seconda vita, come spesso accade in queste località turistiche, c'è il periodo che va dall'autunno agli inizi della primavera, dove tutto sembra quasi fermarsi, i ritmi si rallentano e poi la primavera ci si comincia a dare da fare per l'imminente stagione estiva che chiamerà ovviamente i turisti. Qui a Cala Marina sorge l'hotel Italia di Barbara ed Eusebio, o per meglio dire, i creatori di questo hotel sono i genitori di Eusebio, la madre è morta, il padre ormai è anziano, è un po' rinco, o preda di mille manie, Eusebio è il figlio, quindi il giovin padrone sposato con Barbara, Barbara sulle cui spalle grava tutto il peso dell'hotel, dall'organizzazione del personale all'aiuto in cucina, al controllo che tutto sia in ordine, che tutto funzioni bene, anche perché l'hotel ha un'annessa spiaggia privata, quindi bisogna che tutto funzioni a meraviglia. Eusebio invece se ne frega alla grandissima, Eusebio è uno che vuol fare solo la bella vita, macchine sportive, va a giocare al casino, belle donne e l'hotel per lui non ha nient'altro che arrivare, entrare nella hall, girare dietro al banco della reception, aprire il cassetto, prendere una manciata di soldi e via che si va, e tutti i problemi sono sulle spalle della nostra povera Barbara. Ovviamente a Calamarina ci sono vari personaggi che popolano questo piccolo paesino di vacanza, ci sono innanzitutto il capo stazione Dalmasso, colui che tutto vede, tutto controlla, vede chi arriva, chi parte, chi sono i turisti, chi sono invece quelli del posto che magari prendono il treno per spostarsi da qualche altra parte per fare chissà cosa, lui freme di curiosità. Poi c'è l'edicolante Silvano che è una specie di punto d'incontro dei vari abitanti, il professor Martinelli, un professore in pensione che spesso intrattiene i bambini, i ragazzini nei giardini antistanti, la stazione con ameni giochi, anche indovinelli, insomma è l'anima un po' culturale e giocosa del luogo. Poi ci sono il taxista che porta i turisti di qua e di là, quindi sa dove alloggiano, dove non alloggiano, Norberto che è il maresciallo della Polfer. Ebbene, inizia la stagione, iniziano ad arrivare i turisti, ovviamente Eusebio viene, va, prende i soldi, se ne va, se ne frega, Barbara non ne può più anche perché ha bisogno di un aiuto cuoco perché lei da sola non ce la fa fisicamente, psicologicamente, è distrutta, quindi a un certo punto decide, adesso devo pensare a me stessa, fa la valigia, prende un treno e sparisce, sparisce per diversi giorni e la si comincia a cercare, tant'è che viene allertato anche il maresciallo dei carabinieri, insomma si comincia a cercare questa donna che in realtà non ha fatto altro che un piccolo breve viaggio per ritrovare un suo antico amore, perché sì, lei prima di incontrare Eusebio era innamorata di un'altra persona, la ritrova questa persona, passa qualche giorno insieme a questa persona e chissà che da questi giorni troppo brevi, ma profondamente intensi da un punto di vista sentimentale, non riesca finalmente a nascere quella creatura da lei tanto agognata ma che mai arriva, dopo qualche giorno fa ritorno a casa, all'hotel, riprende in mano le redini dell'albergo, è arrivato anche un aiuto cuoco affascinante, tra i vari ospiti dell'hotel c'è anche un noto politico con un'attricetta che sarebbe la sua amante e che quindi prende la camera accanto, comunicante con quella del noto politico, insomma ci sono un po' di fatti, di storie, di amori intrallazzi e altro, ma ecco che arriva la pennellata di giallo, sì perché alla stazione di Cala Marittima arriva il treno che rimane fermo per un motivo molto semplice, qualcuno è bloccato nel bagno, si cerca di sforzare la porta del bagno e una volta aperta c'è dentro un uomo morto e altri non è che Eusebio, quindi Barbara si trova vedova, ma Eusebio è morto per un malore, si è suicidato, è stato ucciso, si arroga il diritto di indagine la sede dei carabinieri della stazione di partenza del treno, ma il nostro maresciallo della Polfer, il nostro Norberto decide che questa forse è la volta buona per uscire da quella stazioncina e nel suo piccolo si dà da fare, inizia ad indagare, non vi dico altro, sarà un'indagine molto particolare perché si scopriranno dei lati oscuri di Eusebio, si scopriranno alcuni segreti di Barbara, ma si scopriranno segreti anche dei vari altri ospiti dell'hotel, insomma una storia che nasce come una storia di una vacanza estiva degli anni 60, con un risvolto giallo poliziesco, dove si riassaporerà il gusto di un'Italia di molti anni fa, un'Italia che ripeto, io ho avuto un modo di vivere, di conoscere e che ricordo con profonda nostalgia, era un modo di vivere completamente diverso, la gente si guardava in faccia, parlava, per telefonarsi, addirittura, adesso non ricordo se nel 67, ma per fare una interurbana non esistevano neanche i prefissi, bisognava andare nei posti telefonici dove le varie centraliniste, da un centralino con l'altro vi mettevano in contatto con la persona che stava in un'altra città, era tutto molto più umano, per me era più umano, era fatto più di rapporti autentici, di cose vere, ripeto, ci si guardava in faccia, ci si parlava e si scrivevano le cartoline, ci si scrivevano le lettere, l'attesa delle notizie di una persona era un'attesa più prolungata, ma al tempo stesso il ricevere notizie, vuoi in forma scritta, vuoi tramite telefonata, era una cosa molto più apprezzata, molto più vivificante, era come un regalo che arrivava all'improvviso, ho una cartolina, ho una lettera, ho una telefonata, adesso siamo ossessivamente, compulsivamente legati a questi cellulari e io credo che sia veramente una ossessione che sta distruggendo i rapporti umani. In questo libro ritrovate cos'era vivere in quei tempi, cos'era anche fare le vacanze in quei tempi, dove il massimo era ascoltare le canzoni al jukebox, sgranocchiare un ghiacciolo, fare quattro passi sul lungomare, e l'estate profumava di crema solare, di salsedine, e sì, di felicità, perché no? In questo romanzo Roberto Centazzo ci regala veramente tutte queste sensazioni, quindi credetemi, è una cosa piacevolissima leggerla. Io tra l'altro ho scoperto solo una volta finito di leggere questo libro che era il secondo della serie, quindi sarà mia premura a mettermi a posto con le vicende, perché Cala Marittima, è una località che ha tante storie da raccontare, tanti personaggi simpatici da ritrovare e che meritano quindi una lettura più approfondita. Vi ridò gli estremi di questo gustosissimo libro, il titolo è Bevande incluse, mi sa di non avervelo detto all'inizio, Bevande incluse di Roberto Centazzo, casa editrice Thea, sono 240 pagine, prezzo di copertina di 13,20 euro, 6,99 euro, il prezzo in formato elettronico. Per tornare a gustare un'Italia che fu, e vedere anche come erano le indagini quando ancora non si usavano le mail, i fax, gli screenshot e tutto il resto. Un'altra marcia, un altro modo di vedere, un altro modo di vivere. Mi raccomando, un bel libro da non farsi scappare. Per ora è tutto, un bacione e mi arrivederci a più tardi. Ciao!